L'inizio della quarta ondata di Covid-19 sta portando alcuni paesi europei a introdurre nuove misure. La situazione dei contagi in Italia è ancora sotto controllo, ma visto l'aumento il governo ha già messo in campo ulteriori norme e ne sta vagliando delle altre. La stretta è partita dall'ordinanza emessa dal Ministero dei Trasporti in accordo con il Ministero della Salute. In particolare, nelle grandi stazioni dei treni è preferibile che il controllo della certificazione verde sia svolto a terra prima della salita sul mezzo. Inoltre, il provvedimento prevede che qualora i passeggeri presentino sintomi riconducibili al Covid, la polizia ferroviaria e le autorità sanitarie possono decidere di fermare il treno per procedere ad un intervento. E allo studio poi un giro di vite per il periodo invernale. Sul Green Pass, oltre ad una proroga per il 2022 insieme allo stato di emergenza, si pensa ad una riduzione dei mesi di validità post-vaccino, che potrebbero passare da 12 a 9. Invece, con i tamponi, la validità della carta verde potrebbe scendere dalle 72 alle 48 ore con il test molecolare e dalle 48 alle 24 con quello antigenico. Da tempo si discute sulla legittimità del lascia passare richiesto anche per svolgere l'attività lavorativa. E a far chiarezza, oggi è l'avvocato di Verona, Thomas Del Monte. Avvocato, che cos'è il Green Pass? Il Green Pass, o lascia passare, è uno strumento concepito dal regolamento 953 del 2021 della Commissione europea, in particolare il considerando numero 36, tale per cui il cittadino di uno Stato membro ha la possibilità di viaggiare, e quindi transitare in un altro Stato membro, dimostrando nel momento del permanere della pandemia il proprio stato di benessere fisico. E perché è così tanto contestato? Viene contestato perché l'Italia è uno di quei paesi, non solo, che ha utilizzato questo strumento, ripeto, meramente formale, per discriminare i lavoratori tra coloro che sono vaccinati o meno, penso ad esempio alla possibilità di accedere o meno al posto di lavoro. Quindi è stato individuato questo strumento giuridico per garantire la sicurezza sanitaria della popolazione. Ma quanto può durare? Non può durare all'infinito, proprio perché questo Stato di emergenza sanitaria tocca sul vivo i principi fondamentali e i diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione. In particolare il decreto del 31 gennaio 2020 è stato emesso sulla base del Codice della Protezione Civile, il cui articolo 1 prevede che la durata massima possa essere di 6 mesi, con eventuale proroga ai sensi dell'articolo 24, di ulteriori 12 mesi. Quindi se in totale può durare 18 mesi, noi saremmo già abbondantemente oltre questo limite temporale, tale per cui il dibattito tra dottrina e giurisprudenza inizia a farsi interessante proprio perché vi è una importante parte della dottrina che ritiene che questo modo di concepire il Green Pass non sia più conforme ai principi costituzionali. Però si parla addirittura di una possibile proroga. Perché non se ne parla così tanto? Perché nessuno fa niente? Vi è la necessità di tutelare la sanità pubblica a scapito anche di diritti fondamentali. A livello internazionale l'orientamento della Corte dell'Oussemburgo è tale per cui, fermo restando il divieto di discriminare tra chi ha il Green Pass e chi non ce l'ha, queste applicazioni però sono liberamente attuabili dagli Stati membri e quindi di conseguenza rinvia al giudice dello Stato l'applicazione o meno della normativa. Da questo punto di vista i profili di costituzionalità sono certamente presenti ed auspico dibattiti non tanto e non solo in campo medico-scientifico ma anche in campo giuridico affinché si faccia luce sulla necessità di ripristinare un equilibrio tra tutele giuridiche verso il cittadino tale per cui la tutela sanitaria non arrivi a inficiare la libertà del cittadino di esprimere le proprie opinioni in materia sanitaria secondo la propria sensibilità come tutelato dall'ultima parte dell'articolo 32 della Costituzione.